Buonasera dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. In A11 ci sono code a tratti tra Lucca Est e Prato Ovest in direzione Firenze per traffico intenso. Sulla PPL code per lo stesso motivo tra Lavoria e Pontedera Ovest in direzione Firenze. Sulla Statale 1 Aurelia, traffico rallentato per un incendio segnalato a un chilometro circa dallo svincolo di Gavorrano in direzione Roma. Sul raccordo Siena-Firenze in direzione Siena, scambio di carreggiata per lavori nel tratto compreso tra lo svincolo di Firenze in Pruneta e San Casciano Nord. Per quanto riguarda la viabilità cittadina a Firenze per i cantieri della tramvia Senso Unico di Marcia in via Tavanti tra Piazza Leopoldo e via Romagnosi in direzione Careggi. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!